Sono sette le interrogazioni senza risposta da gennaio ad oggi presentate dal consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni Magri. Vari gli argomenti trattati nelle domande scritte al sindaco sui temi che riguardano la città, dalle balaustre del Redentore all'abbandono dei rifiuti, all'edilizia scolastica, alle vicende riguardanti la salute pubblica. Adesso arriva un atto stragiudiziale da parte del Movimento 5 Stelle che intima al sindaco risposte immediate, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo del 2000. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e emozioni e di ottenere dagli uffici competenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espretamento del proprio mandato e dall'altra parte l'obbligo per il sindaco e gli assessori da esso delegati rispondere entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. È fondamentale dare risposte ai cittadini. Il question time è uno strumento importantissimo perché è veramente il filtro tra noi consiglieri comunali e la nostra città. Parliamo tanto di democrazia partecipata e questo potrebbe essere veramente uno strumento molto importante. Quindi noi non facciamo altro che portare le istanze dei cittadini perché sono gli stessi cittadini e chiedercelo, facciamo le interrogazioni e le portiamo in question time. Il problema serio è che purtroppo adesso si è tutto ingolfato perché se gli assessori non rispondono alle nostre interrogazioni tra l'altro ci sono interrogazioni molto importanti che riguardano la salute pubblica è chiaro che diventa un problema serio. Il nostro atto è un atto stragiudiziale ed è un atto che vuole solo invitare la Presidente del Consiglio e il Sindaco a far sì che tutto si possa svolgere in tempi più brevi perché dobbiamo assolutamente dare delle risposte a tantissime interrogazioni non solo alle interrogazioni del Movimento 5 Stelle ma a tutti gli altri consiglieri che le hanno presentate. Quindi si deve trovare immediatamente una soluzione per smaltire tutte queste interrogazioni ma fatto comunque in modo serio con delle risposte valide e serie. Vorrei aggiungere anche, proprio stamane è arrivata una risposta ad una delle otto interrogazioni appunto come diceva lei che ancora non erano state, di cui non si era avuta risposta che è la risposta sul problema delle balaustre del Redentore. Queste balaustre erano state sistemate, alcune erano state buttate giù ed erano ben visibili. Il problema è che questa risposta arriva dopo due mesi e dopo due mesi ci dicono che provvederanno. Io dico ma che risposta è questa? Cioè io rimango veramente basito, noi rimaniamo basiti perché questa risposta significa, tanto il tempo passa poi ce lo dimentichiamo, no, noi ogni interrogazione che facciamo l'andiamo a riprendere perché noi veramente vogliamo le risposte a tutte le interrogazioni che abbiamo fatto e i cittadini vogliono capire cosa si fa e cosa non si fa.